Una sera come tante, con l'AFA che ti invita ad uscire a cercare sollievo tra le vie del centro cittadino Siamo ad Avellino, lungo il centralissimo viale Italia. Ai lati della strada si susseguono decine di locali Ognuno, con il suo stile, e le sue offerte, prova ad attirare la clientela. È estate, la città si prepara ad andare in ferie, ad abbandonare i PC e gli uffici per popolare le vie del centro. Parola d'ordine e relax Qualcuno, però, ha una concezione distorta della parola relax. Proviamo a spiegare così i motivi che hanno spinto quattro giovani avellinesi a fare branco, e, quindi, ad aggredire un ragazzo appena ventenne Pestato senza alcun motivo. Quattro contro uno, avete letto bene? E non è tutto Il ragazzo, il ventenne nigeriano, è stato pestato con calci e pugni. Non contenti, i quattro lo hanno percosso con i caschi Il peggio è stato solo sfiorato perché il ventenne ha trovato le forze per rialzarsi e correre in un bar Lì ha atteso i soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine. All'ospedale Moscati di Avellino gli hanno medicato il setto nasale, rotto, e le varie escoriazioni sulle gambe I quattro sono ricercati, e, peggio ancora, potrebbe esserci una matrice di odio razziale dietro al vile attacco L'aver pestato un ragazzo inerme e innocuo gli costerà molto caro .